Salve a tutti ragazzi e come preannunciato quest'oggi andremo a vedere Cavedania Rana dunque mi raccomando ragazzi per altri video del genere e soprattutto sto pensando seriamente di fare una sfida tra Top Water tipo VTD, Popper, Rana, quello che c'è e magari con lo SpeedX ovvero Whopper Popper andare a provare a sfidarli sullo stesso piano praticamente quindi mi raccomando per video del genere superiamo i 120 mi piace dunque mi raccomando ragazzi lasciate un like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete più iscritti dunque direi non perdere altro tempo e via commenti Ciao! 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 puttana cazzo di pesci era con un attacco del genere mamma mia è venuto fuori mamma mia che attacco sembra un fulmine ok preso preso raga preso c'è a rana praticamente guardate qua questo perfetto guardate che pesce guardate qua ok cioè non è proprio una rana però comunque è un allobody piccolo crullier c'è raga anche il crullier seguito seguito cacciata e dopo l'ho preso stiamo vicino alla sponda ecco là attacco come vedete ho un altro ancora stanno là all'ombra al riparo in attesa di un frutto che cade a qualcosa un insetto dall'albero attacco l'ha toccato ma non l'avevo preso bene preso urca bello 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 questo tira guarda qua che bello che vedono preso perfetto sul lato della bocca ciao bello ecco qua vai sempre a rana c'è un cavolo c'è una trotta ecco qua ciao questa buca è troppo bella per non lanciarci dentro ecco qua ecco qua ovvero qui ecco qua Lui in canna l'ho sentito ma non è rimasto sull'amo Ho preso che cazzo è? Mamma mia che attacco Che cavedano Ragazzi che cavedano Che attacco Guardate che roba Ok Guardiamolo Ok Liberiamolo Ciao E grazie per il divertimento Grazie a tutti Grazie a tutti